ciao a tutti e bentornati ancora una volta su indie gameplay ita oggi siamo su curious expedition 2 uscito il 28 di gennaio attualmente in sconto a 18 euro circa 17 qualcosa il suo prezzo base di 19.99 vi ricordo questo è il secondo capitolo di questa serie diciamo i giochi dove si mixa una storia creata a mano con generazione procedurale di vari ambienti ed è ambientato nel tardo diciannovesimo secolo questa spedizione alla ricerca di ricchezza insomma di conoscenza di cose varie vi dico subito il gioco non è in italiano ma mi fa ben sperare il fatto che anche il curious expedition 1 ve l'avevo portato che era in inglese se non mi ricordo male e l'ho trovato attualmente in italiano quindi se la meccanica vi piace sicuramente una meccanica migliorata rispetto al primo capitolo però dovesse piacervi potete pensare al primo capitolo che è in italiano lo proviamo andiamo a vedere potremmo vestire ogni membro del nostro equipaggio insomma cercheremo di capirci qualcosa perché ci sono delle meccaniche anche basate sul tiro di dadi quindi vediamo stavo ritornando da una spedizione di routine in perù quando abbiamo notato un una grande tempesta abbattersi sull'orizzonte l'equipaggio si è preparato per gerarci intorno ma ci ho visto qualcosa all'interno una terra un'isola nel mezzo dell'atlantico dove nessuno è mai stato prima sopra le proteste del capitano ho dato ordine di puntare all'isola e abbiamo girato l'equipaggio ha sterzato verso il cuore della tempesta la tempesta infuriava con una furia innaturale una strana nebbia si è sviluppata intorno a noi e un fulmine i fulmini ci colpivano intorno cioè colpivano intorno il vascello si è infranto contro le onde ma quando la morte sembrava certa siamo emersi da il cuore della tempesta in un mare perfettamente calmo nuovo obiettivo esplora l'isola vediamo come funziona questo nuovo titolo ovviamente io non sono una cima in questo genere soprattutto quelli in inglese però direttamente in linea d'aria di fronte una lussureggiante isola tropicale la tempesta in modo diciamo sicuro era dietro di noi e ci siamo preparati per levare l'ancora e vedere quali meraviglie contenesse quest'isola diciamo che finora l'inglese non l'ho trovato eccessivamente complesso soprattutto calcolando che ne è turni quindi ecco questa è la meccanica che c'era anche nel primo quindi io conosco questa strada bene quest'isola non era qui prima insomma possiamo andare a vedere vediamo che i viaggi lo esploriamo insieme vedete che abbiamo questi 100 punti e ogni punto ci costa un tot vedete qua possiamo andare qui all'interno in questa giungla possiamo andare qui andiamo lì viaggiamo conferma il viaggio e andiamo anche che carini visti così ogni movimento costa sanità sì infatti mi ricordo che c'era la sanità mentale un po' stilectulu quindi consumiamo sanità camminando paghi questo costo ogni volta che ti muovi fai pochi movimenti efficienti insomma di non fare cose azzardate insomma ma al momento non sembra esserci nulla quindi noi avanziamo lì e vediamo di riacquisire un po' di di sanità mentale adesso io non vedo niente quindi andiamo avanti ci sono anche i combattimenti a turni uh abbiamo trovato qualcosa ci andiamo spendiamo altri 14 punti sanità abbiamo trovato una location sconosciuta muoviti due cose vicino per rivelarlo scusate ma adesso io voglio muovermi qui scusa posso muovermi posso muovermi qui ok abbiamo trovato un elito di una nave move it next to the shipwreck ah una vecchia nave arenata un elito quale demone l'ha portata qui commenta l'altro nostro membro tra l'altro non abbiamo guardato i membri dell'equipaggio che al momento 18 giorni e sentono anche dei rumori inquietanti quindi andiamo 10 punti sanità ad andarci esplora il elito è una sorta di tutorial questo immagino perché poi ogni partita che farete sarà un'avventura diversa molto interessante esplora the island ok esplora no vorrei esplorarla no? che dite? esplora ok clic destro ed esplora disegni sono stupendi mio punto di vista ehm siamo andati verso la nostra astounding non so cosa voglio dire però l'ho scoperta il elito sembrava una vecchia nave britannica e non non posso aiutare ma mi chiedo come si è arrivata a riposare qui resti con ogni passo che facciamo in questa strana isola sembra che incontriamo un nuovo mistero in realtà no però vabbè search ship cerchiamo nella nave con attenzione testiamo le assi marce prima di entrare abbiamo fatto un'ispezione della nave dopo un po' abbiamo trovato alcuni oggetti di valore abbiamo trovato della dinamite e una pala io prendo tutto perché no ok qua qua è il tutorial insomma perché io gli dico use dynamite la mettiamo qui che spettacolo e quindi abbiamo trovato la via di fuga use dynamite scusate ma nell'altra stanza ho la tombolata quindi insomma spero che non non disturbi troppo allora allora andiamo a vedere andiamo avanti cioè ha distrutto l'isola ha distrutto la cosa qui andiamo lì devo attraversare e niente allora vediamo andiamo avanti allora 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 vediamo un po' eh mannaggia siamo passati quando si passa in mezzo alla foresta si consuma più punti sanità un piccolo gruppo di indigeni è arrivato si è affrettato verso la nostra location attirata forse dal suono della nostra dinamite sembrano scioccati spaventati di vederci tanto quanto lo fossi io a vedere loro ci chiedono da dove arriviamo perché siamo qui questo poi con gli stivali di serpente è veramente pessima boaster or your great magic no digli la verità gli racconto la verità ora abbiamo guadagnato reputazione allora usando gesti e maniere amichevoli ho provveduto a calmare i nativi e mostrargli che eravamo semplici viaggiatori loro ci hanno dato il benvenuto con sorrisi amichevoli allora qua dice che praticamente lo standing cioè diciamo la reputazione rappresenta la reputazione con i locali ok questa qui si perché poi allo stesso modo facciamo i combattimenti ok dopo poco tempo loro hanno capito loro devono controllare il loro viaggio prima che se ne vanno ci danno delle istruzioni dettagliate per il loro villaggio incoraggiandoci a visitarlo show village on map ok ma prima di arrivare là avremo perso tutta la sanità mentale con vas poi vabbè ci spostiamo no forse ce la facciamo forse ce la facciamo il tutorial non è così cattivo però abbiamo preso una cosa abbiamo del cioccolato abbiamo una cosa medica abbiamo una pala e soprattutto la dinamite con cui possiamo far esplodere le montagne va bene continuiamo un po' allora si dai arriviamo tranquillamente al villaggio sperando che non ci siano brutte sorprese older and drag to scroll map si vabbè questo lo sto facendo visit the village visit the village certo devo cliccare sul villaggio no qui approach village si first reaction shock ci avviciniamo con cautela ma loro ci danno il benvenuto con le braccia aperte sembra che la parola cioè il fatto che siamo già che siamo del nostro arrivo è già arrivato ha già raggiunto il villaggio bene bene in modo interessante non sembrano spaventati del nostro aspetto straniero come ci aspettavamo e ci viene sospetto che noi non siamo i primi visitatori stranieri rest in village non possiamo farlo perché ci serve due di standing trade una donna del villaggio porta una borsa pesante mostangio rivelando le merci di scambio insomma del villaggio andiamo a commerciare ah ok qua ci dice ok offer extra item to get three standing ok gli diamo questo uno solo due ah ok no dobbiamo aggiungere tre di standing ok gliene diamo un po' così facciamo tre di standing questo è tutto quello che hanno loro cos'è questa tavola della legge no equipaggiabile ah uno scudo di pelle dei trinket quindi dei monili dei funghi il fungo dell'introspezione del formaggio duro una bastone appuntito vabbè io prendo questo così possiamo riposare no rest in village meno due di reputazione abbiamo cinque ma io ah no ok richiede lo standing di tre per incontrare il regnante il capo villaggio ok andiamo perché è andata lei sono andata dove c'è il consiglio un anziano ha fatto un passo avanti insomma ci ha permesso solo una richiesta ha reclutato un locale ok ho chiesto se fosse possibile eh cioè cos'è che dice ho chiesto se era possibile prendere chiunque fosse pelato bold ah boh vabbè o che c'è qualche altro boh prendo un native scout o un native shaman hanno delle abilità diverse è in grado è in grado in combattimento lo sciamano di curare e anche di fare del danno rito del dolore così il nativo invece è in grado di fare attacco di fianco e mi sa che non lo vedremo il combattimento in questo video però mai dire mai prendo lo sciamano vuoi reclutare Tio lo sciamano nativo si Tio si è raggiunto la nostra truppa e parla una lingua incomprensibile giustamente la mia richiesta è stata contentata mi inchino al consiglio e gli lascio i loro affari io uscii dalla capanna e ho adattato i miei occhi diciamo alla luce resti nel village ok ora non ci permette più di non ci da più il lucchetto quindi possiamo riposare nel villaggio hanno acceso un fuoco ci invitano a sederci con loro ok quella sera i villagers i villici gli indigeni avevano pianificato una danza rituale che sembrava servire come ringraziamento ai loro dei l'hanno chiamata no hanno chiamato questi loro dei la palikao una strana parola che suona straniera alle loro lingue apparentemente questi dei erano i costruttori di grandi artefatti magici sono stato invitato a unirmi alla loro danza per onorare i grandi costruttori ho considerato attentamente che rifiutare potrebbe offenderli ma un passo falso sarebbe un grande insulto io vi dico sto andando tremendamente bene perché anche in inglese me ne lo sto godendo senza problemi appunto anche per il fatto che ogni partita è una one shot e ho il supporto del tutorial allora i dati verdi sono richiesti e per vincere quindi roll roll green succeed non so quanti devo farne però è due su sei due su sei vediamo dai andiamo a parte il suono che sembra preso da qualche app il ritmo era interesting era non lo so insomma non mi viene la parola ho fatto i loro pattern complicati senza sbagliare neanche un passo ho finito la danza con un flourish e i nativi sono ok si mi hanno battuto le mani giovialmente sulle spalle mi hanno dato un regalo come loro apprezzamento cosa mi hanno dato le attività l'attività della sera sono completi ci sediamo per una serata tranquilla al fuoco prima di ritirarci nei nostri sacchi a pelo ok manage your manage track e keep spear ok quindi select vittoria malin lei che è la nostra portavoce selezioniamo la 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 spira che ci hanno regalato e l'equipaggio perfetto possiamo poi andare a fare il managing di tutti abbiamo il nuovo abbiamo i nostri tre mireia einsworth antoine rougeo e victoria malin si è lei il capo alla fine ok la notte si completato dormiamo ok speriamo di riacquisirla tutta perché abbiamo finito i punti sanità e non so che cosa succederà quando li finiremo comunque vabbè approach village no ok siamo sempre lì vediamo la risveglio mi è piaciuta la sicurezza ho approfittato diciamo goduto della sicurezza di questo villaggio per alcuni giorni mi sono sentito più che benvenuto e i villici sembravano eccitati della mia presenza no puoi fare come desideri puoi riposare per recuperare più sanità ok riposiamo non perdiamo reputazione questa sera sono ho approcciato uno dei nativi in un tentativo di imparare la loro lingua fino a quando ha capito cosa volevo era cioè poi ha capito che cosa volessi fare insomma ed era deliziato dall'insegnarmelo ho sempre trovato che i locali di ogni gli indigeni di ogni posto sono sempre ben disposti a condividere la loro cultura con gli stranieri questa mi sfugge in modo di dire ok lo ringraziamo è stato un piacere per tutti e due ok l'evento della sera ce lo siamo fatto allora vediamo quanto recuperiamo abbiamo recuperato 30 quindi mi aspetterei di andare magari a riposiamo per diversi giorni ancora 70 e recuperiamo 30 ogni volta riposato il villaggio per alcuni ok riposiamo commerciare ancora vedete abbiamo perso due adesso abbiamo perso sì perché ovviamente l'ospite dopo tre giorni puzza insomma Lev ce ne andiamo abbiamo messo insieme i nostri bagagli siamo partiti perché nuove avventure ci stanno aspettando i nativi ci hanno augurato un buon viaggio perfetto gli facciamo saltare la montagna gli facciamo saltare il villaggio vabbè ok quindi siamo nella murder perché adesso arriviamo qui e vabbè andiamo vediamo che cosa succede è intrigantissimo però siamo il giorno 51 della nostra avventura non si sa che cosa stiamo mangiando perché questa cosa non si è capita molto bene comunque io per attraversare mi costa 11 io non capisco se c'è un modo per vabbè continuiamo di là dai andiamo lì 14 speriamo di trovare un altro villaggio qua perché se no la cosa si mette male ok ci siamo avventurati in profondità nelle lande selvagge Tio si è fermato e mi ha spinto da parte sembra sembra che siamo vicino a un sito di un certo interesse i vecchi resti di quello che ha descritto essere the pale travelers the pale mi sfugge cosa sia il palo il palo del viaggiatore show location on map ok l'indigeno ci salva cioè ci salva occhio qui c'è qualcosa e quindi noi ci andiamo se non ci schiattiamo prima the pale non so se è il palo ma non credo sia il palo abbiamo low sanity quindi dobbiamo consumare chocolate or whiskey ok siamo qui che cosa facciamo explore old camp vediamo magari saltano fuori anche dei nemici si infatti così è ci avviciniamo al campo abbandonato sperando di trovare rifornimenti risorse e possibilmente risposte sfortunatamente un gruppo di iene stavano saccheggiando erano già qui e ci attaccano a vista poi attendo una recensione di ocean caster sulla traduzione perché questa volta mi sembra che stia andando abbastanza bene allora il combattimento è tutto praticamente a dadi quindi ce n'è una che ha una è bello perché quello che abbiamo vissuto fino adesso è una storia cioè posso dire abbiamo viaggiato 60 giorni 70 quello che è la lancia che abbiamo l'abbiamo recuperata in quel villaggio e che ci hanno ospitato e ci stanno anche molto simpatici dire la verità comunque lei attacca con due loro con uno quindi penso che uno sia per l'attacco corpo a corpo e l'altro invece è l'arma in più che abbiamo che praticamente dà il 50% di colpire come vedete dalle facce sono tre facce verdi e tre facce bianche mentre gli altri invece no però lui è in grado di non lo so vabbè tira i dadi dai o almeno un verde ok perfetto attacchiamo uno l'altro attacchiamo lui ah aspetta questo qua cranking wall espira trasto ok qui è un colpo ah il rosso è un colpo a mano e il verde invece ok attacchiamo questa no allora danno sette danno e stunna di uno quindi io attacco questo con questo ok e con questo stunno questo così non ci attacca presumo ok stunnato e abbiamo la cura anche però al momento non ce ne facciamo niente quindi rieroll blank sì ma select dice ok anche quello lo ritiro ritiro tutto vediamo mannaggia allora questo è forza 100% quindi è un dado di ispirazione decidiamo di ispirare è lui ok e qui invece dai un danno 5 più 5 quindi attacca questo grazie e gli togliamo 10 ok finisce il turno ora attaccano le iene ok a distanza proprio ah qui invece c'è la possibilità di fuggire la ritirata dai eh mannaggia è andata proprio male allora questo attacca questo ok un danno e poi rieroll compreso anche questo ritira tutto sta iniziando ad entrare nelle meccaniche dovrebbe essere andata abbastanza bene questo è debolezza a rito del dolore a tutti i nemici no aspetta facciamo una cosa prima attacca questo ok e uno è andato poi a rito del dolore debolezza 20% poi lanciamo la cura e la cura su di te neanche più di tanto e forza 100% la diamo lei l'abbiamo ispirata a far più danno ok male a lui mio turno tiriamo di nuovo ci bastano un paio di che schifo allora questo ok e ritiriamo tutti gli altri perché no vai dai il meno un verde che schifo vabbè danno 3 ok forza la diamo tutta e la cura la diamo ancora a lui perché è quello messo un po' peggio passa il turno la iene è così andata dai ce la stiamo cavando bene dai colpo di spada dovrebbe porre fine alle sofferenze no 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 ma un colpo stunnante direi che porrà fine alle nostre ok da qui raccogliamo pelli di iena carne di iena e dente di animali perfetto ci avviciniamo con cautela al vecchio campo forse ci sono alcune cose che le iene non hanno distrutto ha un personaggio pronto a essere promosso quindi lei promote che è la non è neanche il capo la promuoviamo e cosa succede? è ora più forte perfetto livello 2 non so perché lei comunque vabbè back ricerca il campo ho ordinato di cercare nell'aria sentendo un malvagio prickling the back of my neck ok prendiamo non so è un modo di dire niente di importante un vecchio diario poi questo gioco ha anche delle sfide online da quello che ho capito quindi magari ci sarà modo di vedere chi in quella settimana fa un punteggio più alto insomma una roba del genere whisky usabile in mappa e dovrebbe essere usabile in mappa anche la cioccolata tra le casse del campo ho trovato un giornale da campo un diario di bordo in cui c'erano delle note di uno sconosciuto avventuriero leggendo questo sembra che sia caduto preda dell'arroganza di molti esploratori e incontrato la sua morte dopo aver ricevuto vari avvertimenti dai nativi poi mi sono imbattuto in questo intrigante passaggio enormi strutture architetture sconosciute tecnologie molto lontane dalle nostre lasciate sole queste isole selvagge che proposito potrebbero portare insomma lui è andato egli è andato a dare dettagli sulla direzione di queste strane strutture affascinante devo solo visitarle e sono la però io ho assolutamente bisogno adesso di vedere ok e c'è anche qualcosa qua ok ok però poi vedo che ci sono anche altre cose qua c'è un'isola ci sono dei fulmini ma credo che sia visitabile solo quest'isola boh salve a vedere intanto prendo il cioccolato vedete che risale più 10 di sanità il whisky ci teniamo più 20 si si vai giù 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 ok perfetto allora ragazzi allora vedete la lingua al momento siamo esclusi ma non escludo per il futuro di avere qualcosa salverò uscirò ora perché il gioco è davvero interessante Curious Expedition 2 fatemi sapere che cosa ne pensate se vi è piaciuto il gameplay se vi è piaciuto il gioco fa ben sperare che il primo capitolo sia stato tradotto ma ve lo dico onestamente non ho è una delle poche volte che qui ho avuto veramente poche ho fatto poca fatica a tradurre anzi essendo tutto a turni con calma e poi il gameplay mi sembra molto semplice ma anche molto sfidante perché poi ogni partita come ho già detto si scrive una storia ed è un concetto che non tutti i giochi anzi pochissimi giochi hanno e questo io lo apprezzo veramente tantissimo di questo titolo attendo i vostri commenti qua sotto nei commenti 72 giorni del viaggio fatemi sapere ciao ciao